Musica Qui al presepe del Brunzin cosa troviamo? Tanto troviamo 290 statuine e questo è il ventesimo anno che facciamo presepe, negli anni siamo riusciti a farne 290, come potete vederli le novità di quest'anno, nella casa Nuti adesso che poi magari li riprende, ci sono tutti gli scrittori, poeti, Liguri e non Liguri ma molto noti voglio dire, ognuno ha il suo libro che ha fatto, quello più noto, se abbiamo fatto mi sembra che abbia molto successo. Per esempio diciamo che segue un percorso abbastanza preciso, cioè il visitatore che entra lo vede secondo un ordine. Sì, allora questa è la riproduzione del Brunzin, il Brunzin va da Via Roma a Via Nuova Italia, questo è il pezzetto del Brunzin, dove c'è la fontana che è il punto più principale del Brunzin, dove prende il nome e anche dove noi ci abbiamo messo una natività, la cosa più importante, abbiamo messo lì dove c'è il Papa, c'è il Vescovo di Chiavari, c'è il Parago di Lavagna, abbiamo messo tutta la parte ecclesiastica, abbiamo messo lì e poi come vedete c'è tutta la riproduzione di personaggi di Lavagna e non che però, anche se non vivono a Lavagna, ma sono gente che vengono a Lavagna e allora abbiamo voluto onorare di andare verso il presepe. In quante persone ci hanno lavorato a questo presepe? Siamo circa una decina che ci lavoriamo, c'è Roberto Folli che è quello che fa le statuine, poi lo scenografo che fa le scene e tutto, poi ci sono due elettricisti, c'è un falegname, insomma tutti i pensionati quasi siamo, però ci siamo una decina che ci lavoriamo. Quanto tempo ci ha voluto per allestirlo? Iniziamo la prima settimana di ottobre e finiamo quest'anno, abbiamo perso il 7 dicembre, abbiamo finito la sera del 6 dicembre, abbiamo finito. Oltre che personaggi diciamo noti ci sono anche voi personaggi locali o mangiate anche personaggi locali di Lavagna? Ci sono quasi tutti personaggi locali, purtroppo in vent'anni tanti di questi personaggi qui ce ne sono andati e purtroppo c'è qualcuno che c'è morto, però hanno lavorato, qui c'era Bonci, che lo potete vedere che è qui con la sua capa bianca perché questa casa qui l'ha pittorato, non solo questa, ha pittorato anche quella naturale, la casa, e poi l'abbiamo fatto pittorare questa decorazione qui anche, e poi altri personaggi che purtroppo in vent'anni se ne sono andati. Per i visitatori che arrivano diciamo che c'è anche una raccolta fondi? Sì, c'è una raccolta fondi che tutti gli anni la dividiamo, il ricavato lo dividiamo, la metà va ai bambini dell'ospital San Carlos del Cile, del Chiapas, e l'altra metà tutti gli anni cambiamo, quest'anno vogliamo donare la ricerca sulla scolore isolaterale multipla, quest'anno del Cile. Purtroppo siamo stati colpiti da questa malattia, qualche amico di qui che lavora qui, e allora abbiamo deciso di darlo a questa associazione qui. Se dovesse acconsigliare a un visitatore un modo per guardare il presepe, comunque un approccio con cui visitarlo, cosa gli direbbe? Che venga quando non c'è tanta gente, perché quando c'è pieno di gente viene un po' un problema visitarlo, perché qui il bello di questo presepe è andare a cercare tutte le cose che ci sono negli appartamenti, insomma alla ricerca delle novità, delle cose nuove. Quest'anno uno delle novità ci abbiamo messo anche il professor Franzini con la figlia, che è uno che abita a Milano, è il primario dell'ospedale sua a Milano, un neurochirurgo molto noto, che però viene spesso qui, viene sempre, allora quest'anno abbiamo voluto onorarlo, di metterlo qui nel presepe anche. Grazie a tutti.